Per la Chiesa Cattolica la ricorrenza del Corpus Domini è una delle principali solennità dell'anno liturgico. Per tutti gli orvietani è l'evento cittadino più atteso e carico di significati, perché proprio da Orvieto, nel lontano agosto 1264, la solenne festa venne istituita da Papa Urbano IV con la bolla Transiturus de Hoc Mundo. Qualche settimana prima della promulgazione della bolla, il Pontefice aveva preso parte, insieme a numerosi prelati e fedeli, a una solenne processione con la quale il sacro lino macchiato del sangue di Cristo del miracolo di Bolsena, era stato mostrato per le vie della città. Ma la prima processione condotta nel giorno del Corpus Domini di cui si ha notizia risale al 1338, quando il magnifico reliquiario che contiene il corporale fu portato lungo le vie per cui ancora oggi si snoda il corteo religioso. Era stato realizzato nel 1337 da Ugolino di Vieri, su incarico del potente vescovo Beltramo Monaldeschi. Oro, argento e smalti per raccontare mirabilmente in varie scene le storie della vita della Vergine e del miracolo di Bolsena, a cui è legata la costruzione dello splendido Duomo, dove la reliquia del sacro lino è conservata. Da allora a Orvieto, la domenica successiva alla festività del Corpus Domini, che nel calendario liturgico ricorre il giovedì dopo l'ottava di Pentecoste, il corporale venne portato in processione, con un crescendo di iniziative che hanno mescolato nel tempo fede, storia, costume e tradizione, per arrivare all'istituzione di un corteo storico che dal 1951 accompagna la processione, inserendola in una cornice che ripropone le antiche glorie civili e militari del comune medievale. Ma se la coreografia d'insieme è anche profana, è indubbio che la maggiore festa tradizionale di Orvieto ha le sue radici nel profondo senso religioso che la investe. Nel miracolo di Bolsena del 1263 e nell'istituzione della ricorrenza liturgica del Corpus Domini, promulgata proprio dalla città dove era diffusa l'eresia patarina che negava il sacramento dell'Eucaristia. Come narra una sacra rappresentazione della prima metà del XIV secolo, nell'estate del 1263 un prete boemo, tormentato dal dubbio circa la presenza del corpo e del sangue di Cristo nell'ostia consacrata, si recò in pellegrinaggio a Roma per rafforzare la sua fede. Sulla via del ritorno, mentre celebrava la messa a Bolsena sull'altare della Basilica di Santa Cristina, al momento della consacrazione vide stillare dall'ostia alcune gocce di sangue che bagnarono il panno di lino usato nelle funzioni, il cosiddetto corporale. Appresa la notizia del prodigio, il Papa Urbano IV inviò a Bolsena il vescovo della città di Orvieto per condurre nella chiesa di Santa Maria la reliquia del sacro lino che, accolta dal pontefice sul ponte di Rio Chiaro, fu accompagnata fino alla meta da una solenne processione. Nell'anno 2013 ricorrerà il 750esimo anniversario del miracolo eucaristico di Bolsena e nel 2014 saranno trascorsi 750 anni dall'istituzione della solenne festività del Corpus Domini. Per questo il pontefice Benedetto XVI ha indetto, con re scritto del 13 marzo 2012, la celebrazione di un giubileo eucaristico straordinario, durante il quale fedeli e pellegrini potranno ottenere l'indulgenza plenaria. Il giubileo eucaristico avrà inizio a gennaio 2013 con l'apertura della Porta Santa nelle basiliche di Orvieto e di Bolsena e si concluderà nel novembre del 2014 con la chiusura delle stesse porte nelle stesse due basiliche. Grazie a tutti!